Al via le iscrizioni per il primo slalom del gigante Giardinello Sagano organizzato dall'AS di Scuderia Armanno Corsa in collaborazione con appassionati di automobilismo di Giardinello, Montelepre, Partinico ed Altofonte sotto legida della federazione AC Sport con la vicinanza della delegazione Sicilia con a capo il delegato fiduciario Daniele VII. La manifestazione è in programma il prossimo 9 e 10 aprile. La fase di preparazione è stata impegnativa per gli organizzatori impegnati da mesi lungo il percorso di gara. Adesso dopo tanto tempo quel tratto di strada tra le montagne delle Contrate Carcatizzi e Oliveto Sagano risplende di luce propria. Tutto è pronto per ospitare nuovamente le auto da corsa dopo sforadiche apparizioni nel passato nei programmi di alcuni rally. Lo slalom disciplina del settore abilità vedrà confrontarsi i numerosi piloti che già hanno dato conferma della loro partecipazione. Il percorso è di 2,9 chilometri lungo i quali verranno dislocate 13 postazioni di brilli a quattro file, vietato per i piloti abbatterli. Ad ogni brillo abbattuto saranno aggiunti 10 secondi di penalità al tempo totale. Sarà una gara incerta ed emozionante, un test inedito anche per i piloti esperti. Grande atteso è il Girolo Mengardia su Formula Gipard con i colori della SD Scuderia Trapani Corse, ma pronti a sfidarlo gli alfieri della SD Scuderia Armanno Corse, padroni di casa con Salvatore Arresta di Mazzara del Vallo, Salvatore Catanzaro di Sciacca entrambi su Formula Gloria B5 e la volesse Salvatore Gentile a bordo di una sport prototipo Eliavrio. Questi ultimi sono alcuni dei componenti del nutritissimo gruppo che presenterà il suo dalizio organizzatore ai nastri di partenza.